Le iniziative attengono tutte quelle attività che mettiamo in atto per arrivare alla cosiddetta, quella che tutti ambiscono naturalmente, autosufficienza regionale e poi nazionale. Quindi le iniziative sono tutte benvenute in ordine a questo obiettivo. Devo dire che quest'anno abbiamo voluto inserirci in Bergamo Scienza perché credo che sia un tema centrale questo anche nel consenso scientifico perché l'idea che domani tutti nell'immaginario collettivo c'è questa naturalmente idea che il sangue possa essere prodotto in laboratorio che io credo è probabile che non sia neanche molto lontana. Volevamo capire da donatori quanto è la strada ancora da percorrere per arrivare a questo benedetto sangue artificiale. Quindi abbiamo voluto interrogarci su questo e capire un attimino, fare il punto della situazione e dire bene noi siamo a questo punto nella ricerca per arrivare a questo obiettivo e da qui ad allora cosa facciamo? Come ci organizziamo? Qual è l'organizzazione che ci diamo? È una buona organizzazione? È un'organizzazione che necessita di essere modificata? E questo è un po' l'interrogativo che ci porremo stasera insieme al dottor Grazzini, direttore del Centro Nazionale Sangue inutile presentarlo e al professor Mozzarelli che credo sia uno dei ricercatori italiani più impegnati in questo settore della ricerca cioè il sangue artificiale. Io sono uno degli organizzatori, ho dato una mano a Bergamo Scienza e devo dire che ho iniziato Bergamo Scienza col professor Cavalli Sforza che all'epoca collaborava con noi Avis Provinciale di Bergamo, quindi devo dire più a casa di qui credo che non ci potremmo trovare questa è la ragione per cui questo connubio con Bergamo Scienza per noi è un connubio che dura da anni. Grazie.